Il 25 luglio è un fatto molto importante, spesso non si accenna a questo evento e diciamo a ciò che succede nei giorni e settimane successivi, mentre è una data importantissima per la nostra storia. Prima di tutto consideriamo che l'Italia estromette il suo dittatore, la Germania non ce la farà, tenteranno nel luglio del 44, ma non ce la faranno e quindi la destituzione del dittatore in Italia avviene e non è una cosa da poco, perché Mussolini è una personalità, non è che sia un signor nessuno, è una personalità, ha un potere enorme, ha centrato nelle sue mani un potere enorme, è il duce, 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 tutti sottostanno alla sua volontà e certo c'è la monarchia, c'è la chiesa cattolica, ci sono poteri che possono anche contestarlo o non consentire con, ma la monarchia soprattutto si ritrae per molto tempo da un'azione nei confronti del regime, sottostà al volere di Mussolini per moltissimo tempo finché non si arriva alla disfatta militare, si deve aspettare la disfatta militare, che non è una cosa da poco, il territorio nazionale occupato dal nemico, la Sicilia occupata dal nemico, quindi una cosa gigantesca, non solo difficoltà interne enormi, un paese a pezzi, se noi non consideriamo tutto questo, noi non possiamo capire a che punto si è, Mussolini che insiste nel voler continuare la guerra a tutti i costi a fianco della Germania nazista, mentre all'interno cominciano a esserci voci, tendenze che dicono è meglio sganciarsi, è meglio chiedere una pace separata, come ci possiamo arrivare, non ci possiamo arrivare, Mussolini insiste, emergeremo con l'alleato fino in fondo, fino alla fine e di fronte a questo, di fronte al fatto che non ci sono strutture per la difesa, antiaerea, di niente, non abbiamo più niente, mentre Mussolini per severa decidono di, e anche perché la società italiana si muove, la società, questo è importante, la società italiana si muove, ci sono manifestazioni di donne, ci sono manifestazioni in un regime dittatoriale in piena guerra, ci sono gli scioperi operai, gli scioperi operai del triangolo che sono centrali, sono fondamentali, dunque lì i poteri forti capiscono che se continuano a sostenere questo uomo, questo Mussolini e il suo partito, che lo appoggia incondizionatamente, che fine si farà? Qualcuno lo scrive, dunque si arriva al 25 luglio, si arriva al governo Badoglio, al 25 luglio, mentre il re Vittorio Emanuele III e anche alcuni comandanti militari temevano che ci fosse una sollevazione fascista rispetto alla destituzione di Mussolini, in realtà non c'è una sollevazione fascista, il fascismo ormai era in crisi totale e quindi è crollato, è crollato su se stesso, non ci si credeva più, gli stessi dirigenti, gerarchi, non credevano più in questo partito e dunque non ha una reazione, ci sono uno o due casi ma sono ridicoli pensando a questa struttura così forte, così potente nella società italiana con tanti incarichi, tanto potere, potere in tutti i sensi, perché un rappresentante del partito era ovunque, in tutti gli enti, in tutte le associazioni, e non c'è una sollevazione, non c'è, tant'è vero che qualcuno si lamenterà, lo stesso Hitler pare, perché una sollevazione fascista di un certo tipo gli avrebbe offerto il destro per intervenire sul governo italiano e quindi per ripristinare Mussolini, per un'azione di un certo tipo, il fatto che non ci sia una risposta fascista naturalmente lascia perplessi tutti, non solo non c'è una risposta fascista per cui il re che la temeva e quindi si erano organizzati per parare, questa risposta fascista deve ricredersi, ma avviene qualcosa che il re Vittorio Emanuele III e anche molti altri non si aspettavano un manifestare di massa festoso, festante, di vecchi, bambini, donne, per le strade delle maggiori città. Nel 26-26 mattina cominciano a smantellare, a tirar giù i simboli del littorio e quindi i fasci littori, salgono nelle sedi e buttano giù tutto, buttano giù le immagini di Mussolini, buttano giù carte, cioè c'è proprio questa sorta di movimento popolare di massa contro il fascismo, contro i simboli del fascismo e contro Mussolini perché sono i busti di Mussolini che vengono fatti russolari giù, dalle finestre, delle sedi e così via, e i fasci littori. Dunque questa gran parte di popolazione è contro Mussolini, è contro il fascismo. I fascisti di fronte a questo, perché un conto è la destituzione, ma un conto è un manifestare dove uno butta giù i simboli che uno doveva esaltare, i simboli del littorio o il loro duce che scaraventano giù il busto o il ritratto di Mussolini. Cosa fanno questi qua? Avrebbero dovuto reagire, siccome loro avevano giurato di morire per la causa del fascismo e la causa per il duce, invece stanno nascosti. In gran parte, diciamo, la maggioranza, c'è qualcuno che prende l'aereo e se ne va in Germania, chi può, quelli ad altre sfere, ma gli altri se ne stanno chiusi, rintanati in casa o dove possono, perché hanno paura che ci siano delle vendette, delle vendette antifasciste, invece avviene come a Casa Cervi, in gran parte avviene così, che dimentichiamo quello che è avvenuto nel 1920, 21, 22, eccetera, e anche negli anni successivi, brindiamo, festeggiamo, perché è finita la guerra, perché tutti pensano, è caduto il duce, è caduto il fascismo, i massimi sostenitori della guerra, questo vuol dire che noi finiremo con la guerra e dunque facciamo la pasta sciutta, oppure brindiamo e così via. Il governo Badoglio, certo dice la guerra continua, quindi continuiamo l'alleanza con la Germania nazista, però fa un qualcosa di estremamente importante, sopprime il partito fascista, il Consiglio del fascismo, soppressi GUF, i gruppi universitari fascisti, soppresso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, quindi tutte quelle strutture più tipicamente fasciste. La chiusura implica la chiusura delle sedi, il partito nazionale fascista era un partito gigantesco, aveva complessivamente 27 milioni di iscritti, praticamente la metà della popolazione era iscritta a una struttura, se non al partito stesso, a un'associazione del partito, quindi aveva un potere con sedi, tantissime sedi, case del fascio, case della GIL e così via, aveva un patrimonio immobiliare enorme. Badoglio comincia per tutto il mese di agosto a cambiare i dirigenti, addirittura del CONI, perché il CONI dipendeva dal partito, ma sono tutti luoghi di potere, cambia tutti i dirigenti e quindi noi ci troviamo, addirittura cambia rettori nelle università in alcuni casi, vuol cambiare i libri di testo, la prima cosa da fare è togliere il libro di testo unico fascista dalla scuola, anche per l'università si pensa a modificare i programmi, ma si cambiano prefetti, si cambia a capo della SEPRA, dell'alimentazione, cioè a capo di tutti questi enti, strutture, associazioni che avevano un potere gigantesco vengono cambiati a livello centrale e poi cominciano a cambiarli anche a livello provinciale e dunque noi possiamo avere il dirigente della sezione provinciale dell'alimentazione o il dirigente del CONI o di un'altra struttura economica ma anche sindacale o amministrativa che è retta da un cosiddetto badogliano, cioè non più dal fascista precedente perché c'è stata la sostituzione. È ovvio che sono pochi giorni quindi non può avvenire ovunque questo travaso, però è un travaso molto importante. Nel 12 settembre Mussolini viene liberato dai tedeschi e il 15 si ripresenta sulla scena con i suoi ordini del giorno, forse ce l'ho qua, ve lo posso leggere se lo ritrovo. Ecco l'ordine del giorno. Numero 3. Ordino che tutte le autorità militari, politiche, amministrative e scolastiche nonché tutte quelle che vennero esonerate dalle loro funzioni da parte del governo della capitolazione, del governo badoglio, riprendano immediatamente i loro posti e i loro uffici. Cioè quelli che occupavano questi posti in precedenza, prima del 25 luglio, dovrebbero riprendere, cacciar via quelli chiamiamoli badogliani. Ma così non avviene ovunque. Molti di quelli che occupavano questi posti si fanno uccelli di bosco. Ci sono documenti, qui andiamo in discorso anche di fonti, per capire documenti interni di alcune strutture provinciali del partito fascista repubblicano, ma anche di alcune prefetture di capi della provincia, in cui ci sono queste lamentele di questi che non vogliono, utilizzano tutti gli espedienti che hanno a disposizione, che possono, per chiedere l'esonero da un incarico che il partito ritornato vorrebbe di nuovo. Per giorni e giorni sulla stessa stampa, sui giornali, compaiono i trafiletti dove si richiamano gli stessi militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale a ripresentarsi alle caserme. Per giorni e giorni, che vuol dire che questi non si presentano, dunque è uno sfacelo.